Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati e grazie per l'interesse che state dimostrando per l'evento dal vivo che il nostro canale sta organizzando per domenica 14 maggio a Verona. Sarà una giornata di grande informazione da trascorrere con voi assieme ai grandi ospiti che tratteranno tutti i temi di maggiore attualità in economia, politica internazionale, politica interna, sanità e scuola. Interverranno, saranno con noi nell'evento di Verona Giorgio Bianchi, De Mostenes Floros, Paolo Borgognone, Arnaldo Vitangeli, Nadio Ottaviani, Elisabetta Frezza, Nicolai Lilin, Giorgia Campana, Fabio Sarsiamadei e Pierfrancesco Belli. Ringraziatevi per l'interesse che state dimostrando, presento i miei ospiti del lunedì per l'analisi geopolitica. Stefano Orsi, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Carlo, buongiorno Giacomo. E buongiorno Giacomo Gabellini, ciao Giacomo. Ciao Carlo, ciao Stefano, buongiorno a tutti. E allora iniziamo subito questa volta con gli aggiornamenti sul conflitto, ma prima di tutto Stefano volevo chiederti e capire se la più mass mediatica e annunciata offensiva ucraina parte o non parte. Sì, partirà quando sarà il momento di partire, nel senso che ci saranno una serie di eventi che devono essere concomitanti, la disposizione sul territorio di tutti i mezzi che sono stati donati tanto generosamente dai paesi occidentali, il terreno che deve essere in condizioni ottimali, ricordiamo che recentemente ci sono state di nuovo alcune piogge, questo ha riportato indietro l'orologio del fango e i mezzi occidentali, soprattutto i carri armati, essendo più pesanti di 20 tonnellate rispetto a quelli ex sovietici, necessitano di un terreno adatto per poter operare. Detto questo, c'è una serie di elementi che ci dicono che questa offensiva avverrà, avverrà a breve, non più tanto in là nel tempo e sono intanto una serie di contatti a livello internazionale. Abbiamo avuto il viaggio di Ben Wallace a Washington proprio pochi giorni fa. C'è stata la conferenza stampa di Austin con Mike Milley per quanto riguarda la situazione in cui hanno parlato, tra le altre cose, accennando sorgnoni alla presenza di 250 carri Abrams M1 in Polonia, per i quali hanno detto che hanno appena iniziato l'addestramento gli ucraini. Sappiamo assolutamente che non è vero questo, perché sono più di sei mesi che hanno dato questi carri armati all'esercito polacco e pertanto si può ipotizzare tranquillamente che immediatamente sia iniziato da parte della Polonia l'addestramento del personale ucraino. Questi mezzi rappresentano in realtà un fattore di aggiunta alla dotazione dell'esercito ucraino, della quale non si parla o si cerca di non parlarne, perché porterebbero i mezzi da 200 circa carri armati donati dai paesi occidentali, quindi i 60-100 carri PT-91, i vari carri AMX Leopard 2 e Challenger 2, che sono circa un altro centinaio e quindi in tutto sono 200 barra 250 se riescono a produrre anche un tot di lotto di Leopard 1 da aggiungere. Ecco che con altri 250 avremmo 500 carri armati pronti per le operazioni in aggiunta a quelli che l'Ucraina ha già presente sul territorio, ma che non può magari togliere da altre zone del paese per portarle su un'offensiva massiccia. Ecco che questo creerebbe quella massa critica adeguata, perché ricordiamoci che quest'offensiva è non solo importante, ma è vitale per l'Ucraina nella sua riuscita. È una partita che si gioca con un solo colpo da sparare, perché se non va in porto e non crea un crollo nelle linee russe fallisce. Di fatto la loro strategia è causare una perdita notevole di terreno ai russi a tal punto da costringerli a scendere a patti e sedersi al tavolo delle trattative da sconfitti. Ecco questa è una teoria che si basa su due presupposti che possono essere errati. Il primo che abbia effettivamente successo l'offensiva, il che richiede il supporto notevole di artiglieria, da qui 100 pezzi di M109 ad esempio che l'Italia ha donato e più l'aggiunta di quelli che hanno donato altri paesi per creare quella massa che pareggi i conti almeno dell'artiglieria che è sempre in vantaggio ai russi, stavo per dire i sovietici, e quindi crei quella base di fuoco necessario a causare le perdite all'esercito russo. Inoltre poi abbiamo il problema del fatto che anche se avesse un parziale temporaneo successo quest'offensiva, il ratio di perdite che subirebbe in quest'offensiva all'esercito ucraino non potrebbe essere compensato da successivi invidi di forze da parte delle paesi occidentali. Questo perché le riserve strategiche degli Stati Uniti non possono essere impiegate a vantaggio di un altro paese perché laddove venissero attaccati non gli Stati Uniti direttamente ma su altri fronti non avrebbero più il supporto per garantire una difesa adeguata. E quindi oltre a quelli che hanno dato si presume non possano darne o quantomeno ne possano dare un contingente molto più ridotto. In altro caso i blindati, stesso discorso, ne hanno dati 1500. Ci sono 1500 blindati in gioco e questo presuppone ha quindi un numero di carri armati anche superiore, parlando quindi non 200-240 ma forse 500 esatto e quindi avremmo un numero di brigate molto superiore. Un numero di brigate superiore alle 10, parliamo di 15 brigate almeno corazzate impiegate in questa offensiva. Questo numero può causare effettivamente dei problemi, può effettivamente rappresentare dei problemi, meno di questo numero, no. Quindi io ritengo che i 250 carri Abrams M1 vengano gettati nella mischia già in questa partita. Sì. Giacomo, è un unico colpo che ha in canna l'Ucraina? Credo di sì. Qualche mi pare ieri, il Wall Street Journal, proprio nel titolo, riportava che l'Ucraina ha un desperato bisogno di serrare questa offensiva anche se non ha i mezzi adatti per condurla. Il problema è di natura anche mediatica. Come dicevamo già da settimane, da mesi più che settimane, si assiste a una crescente disaffezione da parte delle opinioni pubbliche occidentali nei confronti di questa guerra e l'indisponibilità a portare avanti questo sforzo mi pare che si faccia sempre più palpabile. Peraltro l'inerzia che ormai sta seguendo il conflitto, con lenti ma costanti progressi da parte dei russi, rende il tutto molto più difficile e quindi l'Ucraina ha una necessità di rivitalizzare l'opinione pubblica, risvegliarla e cementarla al proprio sostegno. Il fatto è che anche, sono d'accordissimo con Stefano, il fatto che anche se dovesse ottenere un successo questa controffensiva mi pare assolutamente inconcepibile che tutto ciò comporti lo sgretolamento completo del fronte russo e che la russa d'improvviso si siede al tavolo delle trattative e da sconfitto. Semplicemente il conflitto andrebbe avanti per altro tempo, si allungherebbero i tempi, ma se, come abbiamo sempre detto, l'obiettivo della Russia è che la Russia sta giocando una partita di carattere resistenziale, non può semplicemente permettersi di perdere e non credo che lo farà. Ormai fra l'altro quei quattro Oblast, Kherson, Donetsk, Lugansk, che esaporisce e li ha formalmente inglobati e non rinuncerà per niente al mondo. Con questo io sono strasicuro che la Russia non recederà di un metro rispetto a questo obiettivo. Sì. Senti, Giacomo, aspetta all'Ucraina in questo caso un'offensiva, più che alla Russia? Ma io credo che... Forse, dicevi, per una questione mediatica anche a un certo punto. Sì, ma a me fanno anche... Io chiaramente non sono un esperto di fari militari, però mi pare ovvio che anche i minimi rudimenti indicano che nelle battaglie d'attrito non si assiste a grandissime avanzate con la conquista di ampie fasce di territorio. Si si attesta su posizioni fortificate e se il nemico continua con gli assalti lo si annienta. Lo si annienta e a quel punto i territori diventano facilmente acquisibili, con uno sforzo di uomini, ma non di mezzi altissimo l'utilizzo, ma di uomini molto ridotto. È altamente conservativa la strategia della Russia in termini di uomini. Questo l'hanno sottolineato tutti gli esperti. Quindi dal punto di vista della Russia, la Russia aspetta. Credo che stia premurandosi di prepararsi e di preparare una difesa lungo tutto il fronte. Si parla del fronte meridionale come fronte più caldo, come obiettivo sensibile di questa controffensiva. Si parlava di rompere la continuità territoriale tra il Donbass e la Crimea, quindi Militopol, quelle aree lì. Il punto è che a me sembrava già strano. Mi pare strano che una controffensiva venga annunciata. Il fatto di annunciarla significa proprio che più che di obiettivi militari, mi pare che si tratti di obiettivi politici. Le hanno sempre annunciate però gli ucraini. Anche la scorsa era stata annunciata alla famosa offensiva di agosto. Credo che siano sempre obiettivi di carattere politico più che militare perché, come dicevo, ogni volta che l'attenzione cala nei confronti del conflitto, l'attenzione dell'opinione pubblica occidentale, la disponibilità di proseguire questo sforzo viene meno e a quel punto devono giocare il tutto per tutto. In un'intervista a Zelensky, l'ha spiegato chiaramente, quando una giornalista, mi pare canadese, sul treno erano. Gli chiedeva, ma perché continuati a ostinare su Bakhmut, se era strategica o non strategica, il punto era che quello si trattava di una battaglia persa e Zelensky continuava a inviare uomini o comunque impedirli di smobilitare. Lui rispose testualmente, in maniera un po' anche, secondo me, un po' impressionante, che rappresentava una questione di immagine Bakhmut. Era una vittoria da poter vendere a brasiliani, a cinesi, eccetera, e quindi cambiare anche l'approccio politico da parte delle potenze esterne a questo conflitto. Una battaglia che stanno perdendo. Esattamente, che mi pare piuttosto ovvio. Anche il fatto che le recenti dichiarazioni di un portavovo, mi pare di un ambasciatore, un ambasciatore cinese in Francia, che ha parlato proprio di Crimea come parte della Russia, rispetto alla quale la Russia ha delle legittimità di carattere storico. È una presa di posizione clamorosa che addirittura gli europei si sono svegliati, si sono risentiti, ma mi pareva piuttosto chiaro che la Cina si collocasse su quella posizione. Sì, diciamo, ecco, sì, ribadiamo al concetto, quindi, è un'offensiva molto massimediatica, insomma. Di solito le cose, in questi casi qua, sono poco mediatiche. In questa fase lo è, ma si trasformerà. Diventerà poi l'offensiva veramente. Tra le altre cose, tra i segnali che abbiamo, che questa offensiva sia prossima, ci sono due visite in particolare, quella del Presidente Putin sui fronti. È stato al comando centrale della regione di Kherson, al comando centrale del raggruppamento Vostok, dove ha ritrovato tra l'altro il generale Lapin, che avevamo dato per estromesso. Invece ritorna perché è importante per il suo ruolo. Poi abbiamo avuto la visita di Stoltenberg a Kiev. Ora sto aspettando la visita. Per dare il via libero alle operazioni arriverà un personaggio dal governo americano a Kiev. Quando vedremo lui arrivare sarà uno o due giorni prima dell'inizio delle operazioni. Sospetto che sia Austin, perché nelle volte scorse è arrivato Blinken prima, Kirby. Poi adesso sarebbe il turno forse di Austin direttamente per l'importanza di questa operazione. Sì, viene tutto in favore di telecamere, tutto annunciato, sbandierato e seguiremo. Questa è una situazione da seguire con molta attenzione, grazie a Giacomo e a Stefano abbiamo la fortuna di poterla seguire al meglio. Cambiamo completamente argomento, anche se uno dei due protagonisti di questo punto che andiamo a trattare adesso sono gli Stati Uniti. Giacomo, per il Fondo Monetario Internazionale entro il 2028 la Cina raddoccherà la sua quota di PIL globale rispetto agli Stati Uniti. Stati Uniti che verranno superati anche dall'India. Il processo è in corso insomma? Sì, con il consueto outlook del Fondo Monetario Internazionale, che basandosi sui dati della Banca Mondiale prevede e stima che entro il 2028 il contributo alla crescita mondiale, all'apporto della Cina, sarà più che doppio rispetto a quello degli Stati Uniti. Si parla del 22,6% contro l'11,3% mi sembra per gli Stati Uniti, i quali si vedranno superare anche dall'India. Il contributo indiano sarà superiore a quello degli Stati Uniti, ma è interessante notare anche il contributo che offriranno gli altri paesi, a partire dall'Indonesia, tutto il sud-est asiatico e poi il Vietnam. Quindi come ampiamente previsto, l'asse della crescita mondiale si è ormai definitivamente spostato a Oriente. Il G7 mi pare che sia ormai un po' alla frutta, anche perché lo dimostrano anche i dati che sono usciti relativi all'anno fiscale 2022, che vedono anche potenze esportatrici tradizionali, collocate nello schieramento occidentale, come il Giappone e addirittura la Corea del Sud, aver chiuso il 2022 in disavanzo commerciale. È una cosa epocale, due potenze manifatturiere come quelle, il Giappone soprattutto, ma anche la Corea è un portento da quel punto di vista, evidentemente hanno risentito pesantissimamente del rincaro dei prezzi dell'energia. Adesso si è assistito a una ripresa, solo la Germania è rimasta in attivo, ma comunque rimane l'attivo commerciale più basso a partire dal 1990, scusa dal 2000 mi sembra, dal 1990. Comunque il dato è impressionante e certifica che si deve soprattutto a mio parere a un mutamento d'atteggiamento da parte dell'OPEC Plus. OPEC Plus è di alcuni paesi che hanno ampia disponibilità di materie prime critiche, come per esempio il litio, che ce l'hanno soprattutto l'Indonesia, il Vietnam e la Bolivia, che stanno guardando, guarda caso, e anche il Messico, che stanno guarda caso pensando di costruire un OPEC del litio. Quindi si assiste a un processo di cartellizzazione, di costituzione di cartelli che volti a permettere ai paesi produttori di fissare arbitrariamente il prezzo. L'atteggiamento che stanno adottando questi paesi non è affatto favorevole all'Occidente. L'OPEC Plus, come abbiamo visto per ben due volte, ha contravenuto in maniera palese alle raccomandazioni degli Stati Uniti e non è una cosa che accade molto molto spesso. Mi pare a ottobre tagliò la produzione, dopo che gli Stati Uniti avevano suggerito di spannerla invece. La decisione che fu assunta dietro il cungolo dell'Arabia Saudita fu definita dagli Stati Uniti un atto stile, un atto stile che comunque risulta conforme alla linea d'azione che ha sposato ormai da qualche tempo a questa parte l'Arabia Saudita. E' emerso su Bloomberg giorni fa Mohamed Bin Salman, che è il principe ereditario che il vero dominus dell'Arabia Saudita avrebbe dichiarato a una persona informata dei fatti che poi ha passato tutte le informazioni a Bloomberg che non avrebbe più intenzione di assecondare gli Stati Uniti e vuole molto di più in cambio per assumere delle decisioni che siano in linea con gli interessi statunitensi. Questo equivale a una rottura amorosa dell'accordo strategico che ormai risale al 1945 tra l'Arabia Saudita e Stati Uniti, su cui si regge tutto il sistema del petrodollaro. Quindi credo che per noi, per il G7 allargato, come si vuol dire, la strada non sia piuttosto in salita. Sì, chiarissima l'analisi, molto interessante anche l'aspetto dell'OPEC del litio. Stefano, Orsi, a te la parola. Ci sono alcuni fattori che modificheranno addirittura queste previsioni in positivo per Cina e India e cioè il fatto che fino agli anni scorsi la Cina soprattutto basava la sua produzione energetica su carbone e idrocarburi. Adesso ha già ampia disponibilità di gas, più pulito come combustibile e più a buon mercato, disponibilità che andrà aumentando progressivamente fino a più del raddoppio di questa disponibilità. Questo abbasserà notevolmente il costo energetico per l'industria cinese, aumentandone notevolmente la sua competitività nei confronti dell'Occidente. Tant'è che poi stiamo assistendo, parlavamo la settimana scorsa di Macron in Cina, di questo viaggio per portare nuove industrie o aumentare la produzione in Cina. Stesso discorso per l'India, perché il progetto in via di ingegnerizzazione di un nuovo gasdotto che porti i 60-80 miliardi di metri cubi che dovevano arrivare all'Europa dai giacimenti che servivano all'Europa verso l'India, garantirà loro un apporto di energia a basso costo che serve disperatamente all'industria indiana che è in fortissima crescita, oltre alla pressione demografica anch'essa in forte crescita, tant'è che ha superato la Cina come numero di abitanti e garantirà in futuro il supporto di energia alla crescita economica competitiva. Quindi questi paesi migliorano la loro situazione di competitività sul piano della produzione, mentre noi la stiamo drasticamente peggiorando. Questo porterà quindi il pilo occidentale a soffrire nei confronti dei loro. Cina alla quale non è opportuno e non è nel nostro interesse girare le spalle. L'Europa deve remare verso una eliminazione dei rischi che caratterizzano le relazioni con Pechino, ma senza disimpegnarsi. Queste sono le parole pronunciate dal Presidente della Commissione dell'Unione Europea, la von der Leyen intervenendo sulle relazioni tra Unione Europea e Cina all'Eurocamera a Strasburgo. Come le valuti, Giacomo, queste affermazioni all'indomani del viaggio in Cina della von der Leyen che è stata la propaganda di casa nostra occidentale, ha cercato di edulcorarlo, ma mi sembra che sia stato un mezzo fallimento. Prego. Sì, direi che è un grido di dolore, mi pare, piuttosto evidente. Vuol dire che sei con le spalle al muro, perché qui i dati parlano chiaro, parlavo del fatto che la Germania è stato l'unico paese in avanzo commerciale e questo non è un mero dato contabile, indica che è nato un processo di industrializzazione. Non poco conto, perché questa perdita di competitività dovuta all'incaro forse nato dei prezzi dell'energia, al taglio del legame energetico con la Russia che garantiva l'Europa non solo flussi energetici, quindi gas e petrolio, ma anche materie prime a basso costo, su cui l'Unione Europea ha costruito la propria competitività industriale, sono venute meno. L'aumento dei costi energetici, l'incremento del differenziale rispetto ad altri paesi, offre a questi altri paesi, soprattutto Asia, in questo momento Cina e Stati Uniti, delle condizioni di giocare su questo vantaggio competitivo per ridurre nuove industrie europee e impiantare i propri stabilimenti, là o negli Stati Uniti o in Cina, è proprio quello che sta accadendo. Come dicevamo prima, anche il contributo della Cina e dell'India, i due principali contributi della crescita mondiale da qui al 2028, si deve proprio anche al fatto che questi paesi, non avendo aderito alle sanzioni, hanno la possibilità di importare materie prime, petrolio e gas russi a basso prezzo e questo li pone nelle condizioni di erogare forti stimoli alla produzione interna e quindi questa produzione che va crescendo occuperà quote di mercato a scapito dell'industria europea e questo processo si riflette anche dal punto di vista valutario, perché è un dato molto interessante che, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, il dollaro rimane la prima moneta a livello mondiale, chiaramente, di gran lunga, ma si assiste a una crescita piuttosto rapida dello yuan renminbi che sta erodendo quote di mercato non solo al dollaro, non tanto al dollaro, quanto all'euro. Il fatto che l'euro sia ormai, per esempio il Brasile, nel suo paniere valutario ha inserito il yuan renminbi per la prima volta, nel 2018 non compariva affatto il yuan renminbi nelle riserve valutari della banca centrale brasiliana e invece da quest'anno si parla del 4,5%, è un calo corrispondente da parte dell'euro nel paniere delle riserve valutari brasiliane, quindi l'euro comincia ad essere sempre meno attraente proprio perché l'Europa è sempre meno rilevante dal punto di vista economico-industriale e questo processo andrà avanti nel corso degli anni, quindi siamo su un lungo inclinale molto pericoloso, una specie di piano inclinato che se le cose non cambiano porterà alla deindustrializzazione e qui il viaggio di Macron in Cina e le parole della von der Leyen, però raramente abbiamo visto parole fatti coincidere, quindi credo che come al solito siano uscite a scopo propagandistico a cui non corrisponderà alcun atto pratico che vada nella direzione indicata, quindi non c'è da aspettarsi niente, si è visto già l'atteggiamento dell'Italia che ha mobilitato la porta aerei, Cavour, la mandata nelle acque del marcenese meridionale per fare cosa? Una manifestazione di forza ridicola, inconcludente, inconsistente, economicamente pesante perché costa mobilitare una porta aerei per quale scopo? Per eseguire un ordine in partito altroveso. Certo, tra l'altro sull'euro ritorneremo fra poco per commentare le clamorose dichiarazioni direi quasi a missioni della Lagarde della scorsa settimana al Council on Foreign Relations a New York, ne parleremo fra poco di questo. A te la parola Stefano. Dunque intanto dalle ultime informazioni che ho sembra che la Cavour non parta. E questa è una notizia molto interessante. Questa è una notizia che mi è arrivata due giorni fa, adesso sto ancora controllando ma sembra che la missione della fregata di nuova produzione sia accompagnata da un cacciatorpediniere e da una nave d'appoggio e non dalla Cavour. Non so i motivi di questo cambiamento, forse economici, non lo so. Comunque sembra che sia così. Adesso poi vedremo comunque di approfondire. Per quanto riguarda invece le parole della von der Leyen io credo e ritengo fermamente che vadano prese per quello che valgono e soprattutto per quello che vale la persona che le ha pronunciate, cioè poco o niente. Il problema fondamentale dell'Unione Europea è che gran parte della produzione delle nostre grandi industrie ha sede in Cina e attualmente a causa del programma di decarbonizzazione, neutralità della produzione della CO2 che l'Unione Europea vuole imporre non solo alle industrie ma anche pesantemente ai cittadini, cioè a noi a partire dalla caldaia di casa per finire alla macchina che usiamo tutti i giorni e lo vediamo dai blocchi del traffico insensati che vengono promulgati da varie città noi avremo uno spostamento della quota di produzione industriale verso altri paesi perché tutte queste industrie non hanno nient'altro che avere la convenienza a tralasciare le folli politiche dell'Unione Europea e trasferire questa produzione nei paesi dove non c'è questa follia dilagante. Abbiamo visto come alcune fabbriche vogliono trasferire PSA, gruppo francese, vuole trasferire la produzione dalla Polonia alla Tunisia o altre all'Algeria, altri stanno producendo, vogliono trasferire le produzioni anche in Marocco, cioè tutti i paesi dove c'è disponibilità comunque di energia più a basso costo rispetto a noi e dove non ci sono limitazioni così aggressive e folli come in Europa. Stessa cosa noi abbiamo parlato più volte dell'industria tedesca che aveva preso Scholz per il colletto e l'aveva portato in Cina. Perché? Perché aumenteranno la quota di produzione presente in Cina, Volkswagen ha più del 50% della sua produzione laggiù, aumenterà questa produzione diminuendola in Occidente. La Francia è andata l'altro giorno, ha firmato il contratto per il raddoppio della produzione di Airbus. Airbus, quindi il raddoppio della produzione, significa un calo altrettanto evidente della produzione in Europa. Quindi noi stiamo andando di fronte a una progressiva disoccupazione di sistema dilagante nel nostro paese. Il cambiamento della tecnologia da combustione interna dei motori a auto elettriche non solo sposta la produzione del 90% dei veicoli e delle batterie in Cina, ma distrugge tutta l'industria dell'automotive che impiega milioni e milioni di persone da noi. E che lavoro gli si propone a queste persone? Qualcuno paventa conversioni in altri settori o altro. Io immagino una pletora di persone che lavori in bici a portare delivery a casa delle persone, quelle poche che lavoreranno ancora, o una mandria di schiavi di fatto, che disposti a tutto pur di avere un tozzo di pane, perché noi andiamo di fronte a una desertificazione dell'industria qui in Europa e tra l'altro noto che alcuni preferiscono andare a lavorare a spostare le aziende in Cina dall'Europa piuttosto che spostarle negli Stati Uniti. Questo da un lato mi fa contento, dall'altro mi lascia del tutto indifferente perché dico potevamo tenercele qua, invece grazie alle politiche proprio della von der Leyen e di altri dementi simili, noi ci troviamo sempre meno competitivi e quindi le nostre aziende che cosa fanno? Non si imbarcano in spese miliardarie per convertire nella decarbonizzazione le loro produzioni, ma semplicemente si spostano altrove, come hanno fatto a suo tempo per la mano d'opera. Tra l'altro, rilacciandoci a questo concetto, riportiamo la notizia che nel mondo si torna, con eccezione ovviamente dell'Europa, si torna a costruire raffinerie a un ritmo come mai negli ultimi 50 anni. Il gas russo è e rimane per l'Europa imprescindibile, infatti una inchiesta del New York Times che è stata ripresa da Federico Rampini nel Corriere, che se poi guardavano al vaso di Pandora ci arrivavano anche prima, grazie a voi ovviamente, rileva che non importiamo più gas russo, o meglio magari ne importiamo pochissimo, però andiamo a consumare lo stesso gas russo appunto in Cina. Quindi per finanziare la nostra transizione a un'economia decarbonizzata, l'emissione carbonica andiamo a generarle in Cina in pratica. Non solo in Cina, ma in vari altri paesi. Prego? Non solo in Cina, ma in vari altri paesi. Esatto, esatto, esatto. Tu dicevi prima Stefano, la Volkswagen, anche la Basf, parliamo proprio di due colossi, ma ce ne sono molte altre, producono sempre di più in Cina, proprio anche oltretutto per evitare le penalizzazioni imposte dalle normative ambientaliste, e dove il gas, tra l'altro importato dalla Russia, costa meno in Cina, ovviamente. Stefano? La Basf addirittura, se vi ricordate, aveva interrotto la produzione industriale in Germania e in Europa, proprio a causa dell'elevato costo energetico che non le permetteva di vendere i prodotti già venduti in programma di produzione per le cessioni, proprio per il fatto che a quei prezzi non avrebbe potuto avere un margine di guadagno, e pertanto le conveniva fermare la produzione e pagare le eventuali penali pur di non produrre in perdita. E questo è drammatico, è drammatico soprattutto per il fatto che questi aumenti dei costi energetici sono dovuti interamente a scelte politiche sbagliate, operate proprio dalla von der Leyen e company di cui parlavamo poc'anzi. Io non so sinceramente come facciano a guardarsi in faccia, andare in giro, a parlare ancora, e soprattutto qualche d'uno, come anche Rampini, che ricordiamolo è un esempio classico di quelle persone che fanno il loro lavoro sostenendo delle tesi insostenibili, perché lui di fatto ha scritto quest'articolo con una tesi di quasi condanna nei confronti delle industrie che accettano il gas russo quando lavorano in Cina, ma come? Dovrebbero rifiutarlo, secondo la sua logica. Ed è una follia, ma questo è lo specchio dei tempi in cui viviamo, in cui la logica ha lasciato il campo alla demenza di fatto. Alla propaganda. Giacomo? Posso concordare, ma il fatto poi non è neanche vero che l'Europa non compra gas russo, non lo compra direttamente. Federico Rampini che abbia guardato il vaso di Pandora, secondo te? Eh, ma credo. L'abbia ascoltato voi? Con un po' di bava alla voca. Ormai sono cose, sono dati clamorosi, cioè se si guarda per esempio i volumi commerciali anno su anno che riguardano per esempio la Turchia o i paesi dell'ex Unione Sovietica, presi dell'Asia Centrale in particolar modo, il dato stupisce, ma anche l'India fra l'altro. Cioè questi paesi hanno incrementato tipo 10, 20, 30, 40 volte le importazioni di materie prime russe. Il Tajikistan improvvisamente compra 40 volte il volume di gas russo rispetto a un anno fa, chissà per farci... E anche l'Azerbaijan che lo produce tra l'altro. L'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita sta comprando petrolio e gas russi per fare cosa? L'Arabia Saudita è chiaro che loro lo comprano perché costa molto poco e lo rivendono. È un dato proprio clamoroso e noi chiaramente, spuntando dal loro punto di vista giustamente un prezzo, un sovrapprezzo e loro lucrano sulla differenza. Molto pratico anche come gioco, però è tutto sulle spalle dell'Europa che per adeguarsi a questa politica sta facendo scelte suicide. Doppiamente suicide per un verso perché va contro i propri interessi, per l'altro perché, come giustamente si diceva, sta rendendo quella della delocalizzazione in Cina o negli Stati Uniti una scelta obbligata per le aziende perché chiaramente produrre in un contesto economico caratterizzato da prezzi degli input energetici elevatissimi, due, tre, quattro volte più alti. Si parlava, leggevo un'uscita, c'è stato recentemente, pare di due o tre mesi fa, a Dubai, c'è stato un vertice del gas diciamo internazionale, una riunione alla quale c'erano anche alcuni produttori di idrocarburi non convenzionali statunitensi, cosiddetti fracker. Il rappresentante della principale industria statunitense, estrattiva, che lavora proprio nel settore degli idrocarburi non convenzionali, parlava della disponibilità degli Stati Uniti di esportare fino a 50-60 miliardi di metri cubi all'anno di gas naturale di cui è fatto verso l'Europa, però in cambio volevano uno, contratti a lungo termine, gli stessi che noi abbiamo ripudiato per passare al sistema di contrattazione spot per svincolarci dalla dipendenza energetica dalla Russia. Però la differenza è che la Russia il gas ce lo trasportava tramite gasdotti, quindi infrastruttura già esistente a 200 Euro per mille metri cubi. Invece le forniture statunitense sono almeno di 380 Euro per mille metri cubi, ma probabilmente saranno più alte, anche perché bisognerà costruire rigassificatori che ancora non ci sono, oppure acquistarne alcuni galleggianti e magari metterli davanti a Piombino come sta facendo l'Italia, esponendo quell'area a un rischio clamoroso perché sono impianti pericolosissimi e posti collocati molto vicino alla costa in caso di incidente potrebbe venire fuori un disastro ecologico e una strage potenzialmente, quindi mi pare che ancora una volta la partita per l'Europa sia perdente sotto ogni punto di vista, Rampini se ne accorge dopo un anno e passa di tempo, ben svegliato mi viene da dire. Sì, ma Rampini vorrebbe addirittura rincarare la dose nel senso che lui vorrebbe che neanche chi usa il gas russo lo facesse, quindi rincarando addirittura vorrebbe il ritiro delle industrie che producono all'estero da quei mercati perché non non possano usare il gas russo di fatto imputa a loro il fallimento delle sue follie. Sì, certo. Eh vabbè, ma tanto Rampini non ha mica problemi, lui non ha mica niente da perdere direi penso, no? A livello personale quindi. Come avevo anticipato prima, veniamo al discorso pronunciato giorni fa, ma io lo definirei più che una missione diciamo, Pronunciata il giorno scorsi dalla Lagarde a New York al Council on Foreign Relations e consiglio per le relazioni estere. E ne avevamo già parlato la scorsa settimana con gli ospiti Nadia Ottaviani e Luca Labella. la Lagarde ha fatto una disamina della situazione geopolitica ed economica internazionale per dopo arrivare alla conclusione che questi sviluppi non indicano un'imminente perdita di posizione dominante per il dollaro statunitense o l'euro. Finora i dati non mostrano cambiamenti sostanziali nell'uso delle valute internazionali, ma suggerisco che lo status di valuta internazionale non dovrebbe più essere dato per scontato per quanto riguarda il dollaro. E un altro passaggio fondamentale che ci riguarda dice dobbiamo completare l'unione dei mercati e dei capitali europei. Questo sarà fondamentale per determinare se l'euro rimarrà tra le principali valute globali o se altre prenderanno il suo posto. Giacomo, cosa sono delle ammissioni? Questa è una presa d'atto alla fine della realtà perché non ha un'alternativa insomma. È meno o peggio prendere atto della realtà che non... È impressionante perché di detolarizzazione non parla solo la guardo specialisti diciamo ne ha parlato per esempio Janet Yellen il segretario al tesoro statunitense ed ex governatore della Federal Reserve ne ha parlato Donald Trump in un'intervista a Tucker Carlson ne hanno parlato mezzi di comunicazione del mainstream di last del mainstream come la CNN e il New York Post tanto per dirne due Fox News ne ha parlato quindi l'argomento ormai è sdoganato è sdoganato perché ormai il processo è diventato palese e soprattutto ha conosciuto una forte accelerazione sulla scia del conflitto russo-ucraino e il tentativo di isolare la Russia si è sfociato in una reazione a catena di paesi che hanno moltiplicato gli sforzi per elaborare soluzioni alternative per mettere in piedi sistemi circuiti di pagamento eccetera alternativi a quelli che garantiscono la circolazione del dollaro e quindi si è assistito a un processo di internazionalizzazione delle valute di valute che prima erano molto confinate relativamente secondarie come la Rupia indiana il Dira Emiratino tanto per dirne due e la UNRMB già è un discorso diverso perché il processo era già in atto più o meno dal 2010 intorno al 2010 ma comunque adesso si assiste a una serie di accordi bilaterali tra paesi e paesi che mirano per la regolazione degli scambi commerciali bilaterali utilizzando le valute nazionali quindi escludendo il dollaro dell'intermediazione è un passaggio molto importante perché sta coinvolgendo non solo paesi diciamo fra virgolette secondari la Bolivia eccetera ma anche potenze emergenti di primissimo ordine come l'Indonesia il Brasile la Russia ha annunciato l'intenzione pubblicamente l'intenzione di voler utilizzare lo UNRMB nel commercio bilaterale con i paesi africani questa è una cosa notevole e quindi non è tanto il dollaro detronizzato in favore di un'altra valuta il fatto che questi paesi stanno cominciando a utilizzare le loro valute nazionali quindi non c'è una sostituzione di un sistema con un altro sistema ma semplicemente c'è un circuito piuttosto caotico di scambi bilaterali che prevedono l'utilizzo delle valute nazionali di singoli paesi che questi scambi li effettuano e quindi è molto interessante questo processo la Gardice non comporta la perdita di dominio del dollaro e io nel lungo termine questo è ovvio che invece si verificherà il processo è comunque secondo me come tutti i fatti storici a un inizio avrà una fine verrà sorpassato dai tempi da altri sistemi questo è un dato di fatto solo nella nostra epoca abbiamo per certo e per eterno quello che viviamo nella contemporaneità ma non è mai stato così nella storia e non lo sarà mai però il fatto che il declino della rilevanza economica geostrategica degli Stati Uniti in ambito globale dovrà per forza portare a un ridimensionamento del ruolo del dollaro questo non è un fatto inaggirabile la Gardice come ancora una volta diciamo ci arrivano sempre tardi però il dichiararlo a pertis verbis così urbi e torbi davanti a tutti in fronte al consil of foreign relations che è il vero cervello dove viene elaborata la politica estera degli Stati Uniti rappresenta un passaggio piuttosto importante e soprattutto anche questo direi che si va a ricollegarsi anche al discorso della Wonderland come ho detto era un urlo di dolore cioè un tentativo diciamo di salvare insalvabile e in questo caso l'ultima postilla del discorso della Gardice cioè l'unificazione dei mercati europei cerca proprio di rilanciare l'euro perché l'euro in questo caso già è una moneta molto problematica l'abbiamo detto ripetuto decine e decine di volte ma in questo nel contesto strategico che va definendosi caratterizzato da due o almeno due ma secondo me saranno tre i blocchi quello intorno che fa gravitante attorno alla Cina uno gravitante attorno agli Stati Uniti e un altro dei cosiddetti non allineati c'è l'India tra i quali direi va comunque la stessa emersione di questo sistema comporta per forza di cose un declino del dollaro e della sua moneta ancella cioè l'euro perché la riduzione della rilevanza degli Stati Uniti se è palese altrettanto se non ancora più palese il declino dell'Europa che ormai è confinata a una nota a piedi pagina della storia perché per quelle scelte assolutamente controproducenti che sta inanellando una dietro l'altra ormai da 20-30 anni quantomeno 20-30 anni Certo Stefano sì la notizia non è quella della del dollarizzazione e dell'euro il cui futuro è molto incerto non è questa la notizia la notizia è che lo ammetta diciamo lo riconosca una figura come la Lagarde direi quella quella è la notizia o meglio che sia costretta diciamo a dichiararlo a questo punto a questo tipo di dichiarazioni in genere siccome sono ammissioni di errori commessi madornalmente nel passato in genere sarebbe opportuno seguissero anche delle opportune dimissioni da parte della Lagarde e di tanti suoi correi il problema il problema è che tutta questa pletora di di strapagati esperti e supertitolati commette gli errori e noi li paghiamo di fatto e il punto alla fine è sempre quello lei ammette ciò che si diceva tempo addietro arrivano ad ammetterlo esclusivamente quando il continuare a ignorare come diceva la mucca nel corridoio farebbero ancora peggiore figura come diceva anche il grande Carlo Saregnago è uno con cui ho parlato prima il punto è che loro ammettono solo tardivamente quando è inevitabile e assolutamente evidente a tutti il fenomeno che dà contro a tutto ciò che loro hanno difeso in questi mesi in questi anni e va contro tutte le politiche che hanno cercato di imporci in questi mesi e in questi anni addirittura decenni nel caso dell'euro ecco noi abbiamo fatto tutta una serie di scelte errate che stiamo pagando noi cittadini e che invece portano vengono girati in modo da portare nuova ricchezza a coloro che sono già straricchi Picchetti nel suo libro tra le altre cose in cui esaminava il seguito del capitale di Marx notava come al termine della guerra fredda si innescò un meccanismo che portò a un aumento esponenziale dell'accumulo della ricchezza nelle mani di sempre meno persone noi abbiamo visto durante la pandemia e i vari lockdown incrementare a dismisura la ricchezza di pochissimi a spese dell'impoverimento generalizzato di intere categorie di cittadini in tutto il mondo in tutta Europa almeno nel mondo occidentale in tante altre zone del mondo non hanno fatto nessuna tipo di misura contro il covid e non mi sembra che comunque ci siano stati particolari situazioni di difficoltà assolutamente per completare direi quello che è il cerchio della nostra analisi proprio veramente ad ampio spettro oggi di politica internazionale politica ed economia internazionale vediamo i grandi movimenti diplomatici le relazioni economiche che si intensificano da parte di paesi che non fanno parte del mondo occidentale di cui tra l'altro vi riferiamo proprio settimanalmente adesso è stata la volta del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov che ha fatto un vero e proprio tour in Sud America pochi giorni dopo la visita del presidente brasiliano Lula a Pechino dove si è incontrato con Xi Jinping giusto per avvalorare diciamo la tesi di queste relazioni che si intensificano Giacomo lo vogliamo commentare questo tour il vero e proprio tour sudamericano di Lavrov sì Lavrov come al solito l'abbiamo sempre visto molto attiva ma specialmente dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino ha visto la Russia nelle posizioni doversi già dal 2014 ma poi come dicevo con una cresciuta impellenza dal febbraio 2022 ha dovuto riconfigurare tutta la rete delle relazioni estere ha rafforzato tutti i legami con i paesi non occidentali e il Sud America rappresenta un terreno particolarmente fertile Sud America e anche Centro America perché per esempio c'è un paese come Nicaragua che è molto molto vicino alla Russia addirittura ospita si parla di trattative per la costruzione addirittura di una base militare credo che non si arrivi a tanto perché rappresenta una violazione della dottrina Morro che non so non esiste più probabilmente opporrà fine alla dottrina Morro perché in effetti i militari brasiliani sono già in Venezuela quindi mi pare che sia già un passaggio ormai cruciale aspetta questo passaggio me lo son perso in Venezuela già dal 2000 mi pare con 17 ci sono variati militari militari russi che sono preposti ah russi no avevo capito brasiliani avevo capito brasiliani russi e la Russia si quindi fa valere un po' replica dello scenario sudamericano un po' quello che sta cercando di fare in Africa cioè stende la propria influenza su un'area che è indicata e potenzialmente si candida ad essere uno dei nuovi centri dello sviluppo anche se ci sono grossi problemi per paesi come per esempio l'Argentina che sta attraversando una fase molto problematica che però è caratterizzata proprio dalla penuria di dollari come sempre in seguito al rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve i capitali puliscono tutti negli Stati Uniti e i paesi che sono dollarizzati ne risentono ampiamente e l'Argentina ha sempre avuto a che fare con questi problemi prima o poi probabilmente il paese entrerà nell'ordine di idee di sganciarsi da questo sistema e di allentare in maniera graduale la dipendenza dal dollaro probabilmente la Russia crede che questo processo di sganciamento sia in atto perché comunque abbiamo visto che l'America Latina assume le decisioni sovrane molto più sovranie delle nostre perché nessuno dei paesi sudamericani perlomeno quelli più importanti ha aderito alle sanzioni nei confronti della Russia e in Sud America secondo la dottrina Morora presenta il cortile di casa degli Stati Uniti quindi è interessante questo passaggio e quindi il viaggio di Lavro si scrive si rientra diciamo in questo contesto di espansione e rafforzamento della rete di alleanze da parte della Russia è significativo che si è verificato in concomitanza con sostanziale concomitanza con la visita a Mosca del ministro della difesa cinese cui si è parlato di collaborazione in materia di aerospazio e io non so cosa potrebbe apportare questo processo di avvicinamento fatto sta che la Russia ha sviluppato alcune tecnologie in ambito missilistico soprattutto che potrebbero essere alcune delle quali potrebbero grazie a questi rapporti di collaborazione potrebbero divenire appannaggio anche dei cinesi e a quel punto la Cina che è già una potenza economica di primissimo ordine la prima potenza mondiale di gran lunga a mio parere e potrebbe anche dotarsi di una di una di un'assimilistica che già ha perché la Cina già dispone per esempio di una tecnologia ipersonica con la Cina e la Russia gli Stati Uniti ancora no perché i tentativi che a mio padre erano stati condotti da Lockheed Martin in materia da quanto mi risulta sono falliti e quindi gli Stati Uniti stanno cercando di sviluppare questa tecnologia affidandosi ad un altro pilastro del complesso militare industriale che è Raithon quindi vedremo ma comunque evidentemente c'è un ritardo in questo settore sensibilissimo e quindi credo che diciamo si assista a un rafforzamento dei legami diplomatici in seno i BRICS che poi fra l'altro a breve ci sarà un vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai al quale dovrebbero presenziare i ministri della difesa di Cina Russia eccetera quindi c'è un attivismo diplomatico molto evidente da parte di tutti questi paesi che si candidano che stanno costruendo stanno allestendo diciamo organismi internazionali alternativi a quelli dominati dall'Occidente quindi il processo mi pare piuttosto avviato in questo senso piuttosto avviato grande attivismo a livello internazionale Stefano Stefano Ursi sì il viaggio di Lavrov è stato un viaggio estremamente importante ha toccato tutti quelli che sono gli alleati storici vecchi e nuovi nel senso che sono tornati come il Brasile di Lula dopo la parentesi un po' confusa di Bolsonaro ecco che abbiamo visto Lavrov atterrare in Brasile poi andare in Nicaragua e Cuba e Venezuela quindi ha toccato tutti quelli che sono gli alleati più forti presenti e più determinati nel settore ma anche senza parlare di questi noi abbiamo avuto e ci tengo a sottolinearlo perché è stato un fatto storico una presa di posizione netta da parte della Colombia che ha detto un no secco in casa degli americani a Washington durante la visita di Petro a Washington lui si è rifiutato categoricamente di fornire armamenti di produzione russa o sovietica di cui dispone la Colombia in particolar modo elicotteri all'Ucraina e questo anche se gli avevano promesso in cambio armamenti americani questo è importantissimo perché la Colombia negli ultimi decenni è sempre stato uno zerbino degli Stati Uniti di fatto un paese yes che non ha mai saputo dire no a nessuna richiesta di Washington pullula di basi americane eppure nonostante ciò Petro si è rifiutato di aderire a un a un diktat dell'amministrazione Biden questo ci dice inizialmente che Gustavo Petro è un presidente con diciamo una sua politica personale e nazionale e il potere dissuasivo o persuasivo degli Stati Uniti si sta indebolendo a vista d'occhio perché di fronte a tutti mentre noi continuiamo nella retorica del mondo che si è unito per aiutare l'Ucraina il resto del mondo vede i fatti per come sono e cioè un occidente in estrema difficoltà che langue e un conflitto in Ucraina che non va esattamente nelle direzioni che l'occidente ci racconta e qui è ovviamente la propaganda occidentale tv e giornali stanno lavorando a pieno regime ormai da tempo 24 ore al giorno su tutte le testate giornalistiche televisive e quant'altro noi invece facciamo un altro mestiere se hai trovato questa nostra intervista interessante pensi che il nostro lavoro sia utile per la tua informazione allora supportaci con la tua donazione ti ricordo che il nostro canale è demonetizzato da youtube da tre anni giusto dall'aprile 2021 puoi scegliere come sostenerci con bonifico bancario libero oppure puoi abbonarti al nostro canale tramite la piattaforma patreon che ti dà adesso da ora accesso a contenuti extra in esclusiva nel testo qui sotto trovi i link per scegliere quale delle due modalità preferisci ricordati il tuo supporto è fondamentale per noi per esistere e per far evolvere il nostro canale siamo in chiusura della nostra rassegna internazionale di politica e di economia internazionale io ringrazio per i sempre preziosi contributi Stefano Orsi grazie Stefano grazie Carlo grazie grazie a Giacomo Gabellini grazie anche a te Giacomo grazie Carlo buonasera a tutti grazie grazie a tutti voi amici ascoltatori grazie a tutti